L'Episcopato è un servizio, non un onore. Il Vescovo è Cristo che predica, che fa la Chiesa feconda, che guida. Così Papa Francesco, nella solennità di San Giuseppe, giorno del terzo anniversario dell'inizio del suo pontificato, celebrando nella Basilica Vaticana la Santa Messa con ordinazione episcopale di Monsignor Peter Brian Wells e Monsignor Michel Angel a Iuso Guissot. Al Vescovo, ha spiegato nell'Omelia, compete più il servire che il dominare. L'esortazione del Papa è stata ad essere fedeli custodi e dispensatori dei misteri di Cristo, seguendo l'esempio del Buon Pastore, che, ha spiegato, non ha esitato a dare la vita per le sue pecore e ad amare quanti Dio affida loro. Dietro ogni lettera che riceverete, ha aggiunto abbraccio, c'è una persona da conoscere. A cominciare dai presbiteri e dai diaconi, che sono il primo prossimo del Vescovo. Fa piangere, ha detto, sentire di un prete che trova chiusa la porta del suo Vescovo. E poi la vicinanza ai poveri, agli indifesi e a quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Quindi un pensiero ad ascoltare i fedeli, a guardarli, non in obliquo, negli occhi per guardare il cuore e ad avere viva attenzione a quanti non appartengono all'unico vile di Cristo. Il Pontefice ha poi messo in risalto l'unità al Collegio dei Vescovi e la sollecitudine per tutte le Chiese, vegliando sul greggio di Dio. Siate servitori di tutti, dai più grandi e dai più piccoli, di tutti, ma sempre servitori al servizio. Annunziate la parola in ogni occasione opportuna e non opportuna. Ammonite, rimproverate, esortate con ogni magnanimità e dottrina. E mediante l'orazione e l'offerta del sacrificio per il vostro popolo, attingete dalla pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della Divina Grazia.